Quello che state vedendo si chiama balancing, una tecnica che consiste nel sovrapporre pietre in equilibrio precario, creando sculture effimere e artistiche. È un'arte che unisce la land art alla meditazione, invitando chi la pratica a trovare l'equilibrio perfetto tra le pietre, sfidando la gravità e creando composizioni delicate e sorprendenti. Questa pratica richiede molta concentrazione e pazienza, aiutando a calmare la mente e a raggiungere uno stato di rilassamento profondo. Ogni composizione è unica e irripetibile, lasciando spazio alla libera espressione artistica. Le sculture create sono destinate a scomparire, sottolineando la natura transitoria delle cose e la bellezza del momento presente. Qui mi trovo a San Lucido, dove un artista sconosciuto ha creato queste meraviglie. Se anche tu vuoi creare una scultura, non esitare a provare. Io ci ho provato, spero ti piaccia. Grazie mille e al prossimo video! 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 Grazie mille e al prossimo video!